C'è da dire poco come commento perché comunque il divario tra le due squadre è evidente, tra l'altro a tempi non sospetti siccome ho seguito un po' la Mickey Mike ho detto che secondo me è la squadra da battere in questo campionato perché è quello che ha fatto vedere secondo dal mio punto di vista il miglior calcio. Ragazzi veramente messi bene in campo, di alta qualità, non mi so spiegare sinceramente la sconvitta di Bonifro perché Bonifro ha giocato con noi, sinceramente non questa impressione, non me l'ha fatta. La partita c'è poco da dire, abbiamo dei ragazzini, noi siamo una squadra un pochettino accenderendola del campionato e dobbiamo far crescere questi ragazzini, non abbiamo elementi molto validi però pian piano cerchiamo di fare il nostro e di uscire meno a testata, sappiamo che si va incontro a brutte figure. Però oggi io sono contento, per noi è una vittoria, questo 8-3 con il Mickey Mike ci ha dato una vera lezione di calcio, cose che non accadono tutti i sabato. Io resto meravigliato a vedere questa squadra, ritengo per me, è la migliore squadra vista in questo torneo, abbiamo giocato anche con lo Chaminade, sinceramente 8-1 però abbiamo dominato, abbiamo fatto azioni di gol, siamo stati sfortunati, il primo tempo 2-0. Ma non hanno dato questa inversione di forza, di unità, di squadra. Questa squadra ce l'ha, posso dire altro, voglio fare i miei complimenti e anche la società che è stata molto corretta quando abbiamo chiesto un piccolo aluto se si poteva spostare così come orari, veramente è stato molto disponibile. Non so che dire altro, devo solo fare i miei complimenti e anche i miei ragazzi perché no. Oggi dal mio punto di vista per quello che hanno dato hanno fatto bene, per noi è come una vittoria. Venivamo da una settimana molto difficile, o meglio da due, dopo la sconfitta e l'eliminazione in Coppa e la sconfitta nello scontro diretto col Bonefro, questa vittoria ci rimette in carreggiata e ci dà soprattutto quello spirito che avevamo prima per continuare il campionato e cercare di raggiungere nuovamente la vetta. Stiamo lì a tre punti, manca ancora tanto e ce la giocheremo fino alla fine.